Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dall'edizione di Storia e Letteratura, dal titolo Il Lauro Folgorato, La congiura dei pazzi, le stanze per la giostra, il morgante, di Alessio De Caria, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli del Lauro figurato. Prego professore, a lei. Grazie, grazie innanzitutto dell'invito graditissimo, insomma, della tempestività anche della segnalazione del libro che è uscito veramente da poche settimane. Allora, Il Lauro Folgorato è un libro che parla di tre cose, come dice il sottotitolo. Parla di un evento storico e di due letterati relativamente famosi, ecco, non sono proprio dei grandissimi come del calibro di Dante e di Petrarca, ma insomma sono due autori conosciuti. Luigi Pulci, noto soprattutto come autore del morgante, un po' è, diciamo, forse il primo poema che si può definire eroe comico della tradizione letterale italiana, e Angelo Poliziano invece grandissimo umanista, grecista, latinista e anche autore in italiano di testi importanti. L'evento è La Congiura dei Pazzi. La Congiura dei Pazzi ci porta quindi a Firenze, nella Firenze dell'età laurensiana appunto, quindi di Lorenzo il Magnifico, che nasce nel 1449 e mora nel 92, e che dà il nome appunto a questa età, a questo periodo storico importante per la storia fiorentina italiana, anche perché è un periodo di grande fioritura intellettuale, sia dal punto di vista artistico, come tutti sanno, ma anche dal punto di vista della letteratura. Ecco, La Congiura dei Pazzi è un evento traumatico, diciamo, che turba questo contesto dell'età laurensiana, perché dobbiamo ricordare che Lorenzo non è, come si legge ancora spesso anche nelle storie, non è il signore di Firenze. Firenze è una repubblica ancora, a questa altezza, sarà educato solo nel Cinquecento, negli anni trenta del Cinquecento passerà formalmente a un regime monarchico, tra virgolette, e quindi il potere i medici su Firenze lo amministrano dal 1434 in poi in una forma mediata. Si conservano gli istituti repubblicani del vecchio comune, sostanzialmente è ancora un ordinamento comunale, tra molte virgolette, e quindi i medici però sono la famiglia più influente tra un gruppo di famiglie influenti. È una specie di oligarchia con una supervisione medicea che di fatto poi scelgono gli uomini da mettere nelle istituzioni più importanti. Perché dico questo? Perché i pazzi sono una di queste famiglie, appunto, concorrenti dei medici che in un qualche modo gli contendono a medici il primato, anche sul piano economico, sono dei concorrenti anche, come dire, commerciali, tra virgolette, e per una serie di eventi a un certo punto le frizioni tra le due famiglie crescono e il 26 aprile del 1478 esitano nella congiura. Cioè Lorenzo e suo fratello Giuliano, fratello minore Giuliano de' Medici, vengono assaliti in chiesa nel Duomo di Firenze da un gruppo di congiurati che non riescono a uccidere Lorenzo, lo riescono soltanto a ferire grazie all'interposizione di un suo amico fedelissimo che si prende le coltellate per lui, fondamentalmente, muore. Giuliano, però, il fratello di Lorenzo, rimane ucciso nell'attentato. I congiurati, ovviamente, avevano tessuto una rete importante di alleanze politiche, è noto dopo gli studi di Marcello Simonetta che uno dei mandanti, insomma, era un altro dei principi del Rinascimento, un altro personaggio che di solito associamo all'arte e alla cultura, ma invece è uno dei mandanti di questo evento feroce, cioè il duca d'Urbino, Federico da Montefeltro. Ovviamente il Papa poi ha degli interessi forti in questo fatto ed è, insomma, abbastanza compromesso con congiurati, tanto che una volta che è fallita, diciamo, la congiura, perché il popolo fiorentino non si solleva contro i Medici, tutt'altro, ma sostiene Lorenzo e anzi fa catturare e impiccare sostanzialmente i congiurati, una volta fallita della congiura, Firenze sarà sottoposta a due anni interi di guerra, fondamentalmente, in cui le maggiori potenze italiane si coalizzeranno contro di lei, sempre con l'intento di cacciare i Medici. Quindi una situazione di totale instabilità che cambia in modo brusco e radicale lo scenario politico. Ecco, questa è la cornice, quindi. Il congiurato dei pazzi segna un punto di non ritorno, eh, nel contesto fiorentino. E quindi il mio ragionamento è un po' partito da qui e mi sembrava estremamente, mi sembrava molto strano, eh, che un evento del genere che ha scardinato tutte le gerarchie anche interne al potere non toccasse i due maggiori letterati che vivevano intorno a Lorenzo. E soprattutto che non toccasse le loro opere, eh, quindi in particolare il Morgante di Luigi Pulci e le stanze di Poliziano. Perché mi sorprendevo che non le avessi toccate? Perché mi sarei sorpreso se non fossero state toccate da quest'evento. Perché il Morgante ha una gestazione molto lunga e viene commissionato dalla madre di Lorenzo, Lucrezia Tornaboni, a Luigi Pulci, addirittura nei primi anni Sessanta. L'ultima redazione d'autore del Morgante esce il 7 febbraio del 1483, quindi un lavoro più che ventennale, che appunto attraversa il tempo della congiura, quindi è un po' difficile, no? Che non risenta del cambiamento radicale di contesto. D'altra parte, il poema di Puliziano addirittura resta incompiuto, eh? Sappiamo che inizia, la composizione inizia sicuramente dopo il 29 gennaio del 75, perché racconta un evento preciso, eh? Una giostra, cioè una specie di torneo cavalleresco, eh? Che si svolgeva come se... è un torneo che si svolgevano molto con una certa frequenza a Firenze all'epoca e anche in altre città italiane. Quindi uno scontro fra cavalieri, una specie di competizione sportiva, diremmo oggi, eh? In cui una serie di cavalieri si affrontavano in questo cimento cavalleresco. Tra l'altro queste occasioni avevano anche delle implicazioni politico-propagandistiche forti, eh? Era anche un evento di... che favoriva l'esibizione suntuaria, eh? Quindi le grandi famiglie mostravano, armavano, tra virgolette, i cavalieri e ogni cavaliere era accompagnato da decine di figuranti, di persone in costume, tutte vestite con la stessa divisa. Quindi era un modo di mostrare alla città quali erano le famiglie più importanti che, in questo caso, sostenevano i medici o comunque avevano un ruolo. Quindi questo evento del 75, un evento storico che si è veramente verificato, questa giostra, fu vinta da Giuliano De Medici, eh? Quindi capite bene come sia importante il fatto che, appunto, resti incompiuta. Muore di fatto il protagonista, eh? Poliziano doveva raccontare quest'evento, il cui protagonista, il vincitore della giostra, muore poi nell'attentato del 78. E quindi il poemetto rimane incompiuto, ma Poliziano sappiamo che ci continua a lavorare anche dopo la morte di Giuliano, eh? Quindi questo è stato un po' l'inizio del lavoro, no? Capire come questo fatto traumatico, che ha cambiato moltissime cose, fra l'altro, nell'ambito fiorentino, ha interagito, eh? Con l'evoluzione delle opere. Lo sguardo, ovviamente, è quello di un filologo, eh? Cioè di un studioso che, per sua natura, eh? Tende a vedere le opere letterarie in diacronia, cioè nel loro evolversi nel tempo, eh? Non le esamina dal punto di vista esterno come degli elementi dati circoscritti e compiuti una volta per tutte, ma tende a vederle nel loro svilupparsi nel corso del tempo. E qui il tempo, diciamo, è attraversato, appunto, da questo fatto. L'altro elemento, che soprattutto interessa il primo capitolo del libro, che si intitola All'ombra del Lauro, è il Lauro, ovviamente, Lorenzo, chiamato Lauro da molti poeti di quest'età, con allusione, ovviamente, anche al Lauro come pianta sacra della poesia, eh? Come sapete, Lorenzo De Medici è anche un grande poeta, non è solo un uomo di stato, eh? E quindi c'è sempre questo gioco, eh? Tra il principe, tra virgolette, eh? E il mecenate, eh? E il poeta improprio. Quindi, All'ombra del Lauro, vita e opere parallele di due poeti medicei. Perché mi sono effettivamente qui sorpreso, benché mi occupi ormai, temo da una ventina d'anni, di civiltà laureanziana, ehm, sono rimasto abbastanza sorpreso dal fatto che questi due personaggi che convivono, che verosimilmente si vedono tutti i giorni, anche se c'è una certa differenza d'età, ehm, come dirò fra poco, questi due personaggi sono molto studiati, eh? Già dall'Ottocento almeno, insomma, ci sono monografie intere su ciascuno di questi due, ma nessuno ha mai cercato di costruire, eh, un lavoro sul loro rapporto reciproco, eh? Io ho parlato in un punto del volume di vite parallele, eh? Ha senso, secondo me, esaminare sempre nel loro svolgimento, nella cronologia, nel tempo, eh? Questo rapporto, eh? Questo rapporto fra questi due personaggi che sono caratterizzati in modo molto differente dal punto di vista culturale, hanno una cultura molto diversa, molto divaricata, come dirò fra poco, ma che si vedevano ogni mattina e che facevano riferimento alla stessa cerchia culturale, eh? Addirittura frequentano lo stesso tipo di genere letterale, perché alla fine il Morgante è un poema in ottave, sì, dinematrice, cavalleresca, il poemetto di Poliziano è un poema in ottave, è un poema più encomiastico e, diciamo, legato alla celebrazione, eh? Però alla fine racconta anch'esso un fatto d'arme, tra virgolette, e quindi presente delle evidenti analogie, anche espressive, col Morgante. E quindi ho provato proprio a fare questo, a vedere i rapporti tra Pulce e Poliziano in diacronia, nel loro svolgersi nel tempo, basandomi sulle poche tracce, anche documentari che abbiamo, che non sono molte, ma sono, secondo me, significative. E questo, devo dire, ha aperto qualche porta nell'interpretazione di entrambi i poemi. Luigi Pulce è il più vecchio della compagnia, nasce nel 32 e mora nell'84, ha un'influenza molto importante sul giovane Lorenzo. Ecco, come vi ho detto, è nato nel 49, quindi è il rampollo della principale, come dire, casata della città. Pulce è il più vecchio, ma se andiamo a leggere il loro carteggio, ci sono diverse lettere di Pulce e Lorenzo, soprattutto negli anni 60, quindi con Lorenzo ancora molto giovane, e soprattutto se andiamo a leggere le prime opere di Lorenzo, poeta, troviamo un'influenza pulciana molto forte. Pulce è abbastanza noto come poeta, diciamo, comico, autore di sonetti, autore di una poesia che gioca molto sul rovesciamento comico, parodistico, mette per esempio in satira i vari dialetti italiani, scrive un sonetto in napoletano, scrive un sonetto in veneziano, i sonetti appunto, il milanese va a Milano e scrive dei sonetti contro i milanesi usando la parlata milanese in senso equivoco. Quindi un personaggio abbastanza interessante dal punto di vista anche dell'espressionismo linguistico, potremmo dire. Ecco, i primi testi di Lorenzo sono pesantemente influenzati da Pulci. E quindi c'è un rapporto strettissimo tra i due. Pulci però, ecco, dal punto di vista sociale, tra virgolette, ha un'estrazione nobile. Pulci è, partiene dalla famiglia dei Pulci, che già aveva uffici nel comune, aveva un ruolo nell'istituzione fiorentina già dal 200 e poi nel 300, è però una famiglia ormai, come molte casate del genere a Firenze, in cui c'è un ricambio del potere abbastanza forte, abbastanza continuo, era casata in rovina, eh, dal punto di vista economico almeno. Quindi un nobile Pulci, ma un nobile che spesso è costretto a ricorrere proprio a Lorenzo per farsi dare una mano per, non dico per campare, ma insomma, per avere un tenore di vita dignitoso. Tutt'altra l'estrazione di Angelo Poliziano, che è molto più giovane, nasce nel 54, quindi quasi a vent'anni e meno di Pulci. E, come dice il nome stesso, Poliziano, ovviamente il nome umanistico, si chiamava Angelo Ambrogini, è Poliziano dal luogo di nascita, Mons Polizianus, quindi Montepulciano attuale, è un grosso centro nella provincia attuale di Siena. Poliziano è adottato da Lorenzo fondamentalmente, perché è appunto figlio di un cliente mediceo che vive appunto a Montepulciano, rimane orfano a dieci anni, eh, a causa di una vendetta, praticamente una specie di falda tra parenti, eh, una vendetta, diciamo, tra vari rami della famiglia, e quindi questo giovanissimo ragazzo viene mandato poi a Firenze e Lorenzo sostanzialmente, almeno dal 1473, ma forse anche prima, lo accoglie in casa sua e soprattutto lo fa studiare, eh, lo fa studiare ed è, ed è, ha un talento smisurato, ovviamente, perché già adolescente traduce i testi omerici in latino, per esempio, scrive epigrammi greci e latini già giovanissimo, e si esprime in tre lingue, greco, latino e volgare, e soprattutto col passare dell'età si distingue come filologo classico fondamentalmente, cioè recupera e studia gli antichi testi latini e greci, eh, e fa un lavoro che noi diremmo, direi senza tema di smentita, filologico, eh, studia questi testi, li corregge, eh, li confronta, confronta anche le varie testimonianze fra di loro, e devo dire che il mito di Poliziano durerà anche nei secoli successivi, eh, alcune sue congetture, alcuni suoi interventi testuali sono stati oggetto anche di discussione, anche nei secoli successivi, per esempio, nella tradizione dei classici, quindi un intellettuale di enorme portata, eh, muore giovanissimo a 40 anni nel 94, eh, ma appunto per una buona fetta della sua giovinezza, eh, condivide lo spazio e i luoghi con Lorenzo e con Pulci, eh, quindi questi personaggi di grande rilievo si trovano a condividere gli stessi ambienti. E allora com'è mutato, eh, il rapporto fra, eh, Pulci e Poliziano nel corso del tempo. Lo sappiamo, alcune notizie le abbiamo, eh, sappiamo per esempio che Pulci, che ha il carattere che vi ho un po' descritto, insomma, è un personaggio anche abbastanza irrequieto, eh, ha vari scontri, eh, alcuni, eh, ispirati a un gioco letterario, molti altri, invece, scontri reali, eh, con personaggi che stanno intorno a Lorenzo, alcuni famosi, penso a Marsilio Ficino, in primo luogo, il grande filosofo neoplatonico, ha una pesante, eh, un pesante scontro con Pulci, un altro con un personaggio più oscuro, almeno oggi, Matteo Franco, un prete fondamentalmente che Lorenzo teneva in casa e che viene adibito poi alle più varie mansioni, viene, per esempio, quando la figlia di Lorenzo si sposa con Franceschetto Cibo, eh, a Roma, eh, la figlia va a Roma e Matteo Franco accompagna, eh, questa figlia di Lorenzo, come persona di fiducia, eh, del padre. Quindi è un, diciamo, faccendiere, un, un personaggio, eh, al servizio dei medici. Ecco, Pulci ha una tensione feroce con Matteo Franco, di varie decine di sonetti, che dura anche per qualche, per qualche anno. Ecco, noi abbiamo questi testi, per fortuna li abbiamo pubblicati e commentati io e Michelangelo Zaccarello qualche anno fa, e smontando un po' questa tensione si capisce anche che viene citato più volte Poliziano, eh. E Poliziano, diciamo, in questo scontro che doveva far divertire molto anche i compagni della brigata laurenziana cosiddetta, cioè questi giovani, per lo più di nobile famiglia, che stavano intorno a Lorenzo e che si dedicavano a vari anche divertimenti. Ecco, in questa tensione tra Pulci e Matteo Franco, Poliziano sta dalla parte di Matteo Franco, eh, tanto che Pulci scrive più volte, eh, accusa l'avversario di farsi aiutare a comporre sonetti da Poliziano, che quindi già da giovinetto evidentemente aveva una perizia nel comporre anche in volgare non trascurabili. Eh, quindi ecco, eh, c'è prima una, un rapporto non particolarmente stretto, tanto che Poliziano, eh, mi pare nel 73, quindi molto giovane, prima di vent'anni, scrive una bella regia latina in cui sulla scorta, che scrive a un altro importante umanista, Bartolomeo della Fonte, ecco, insomma, sulla scorta di Orazio e di vari altri modelli, Poliziano vi racconta la sua giornata, no? Racconta cosa fa durante il giorno e quindi rappresenta anche i vari personaggi che incontra. Ecco, in queste regie non c'è spazio stranamente per Pulci, che invece era, era talmente, eh, appunto, presente nei dintorni di Lorenzo che il Franco scrive lettere terribili a Lorenzo, lamentandosi di questa, diciamo, di questo presenzialismo di Pulci. Ecco, Poliziano nella, nella elegia a Bartolomeo della Fonte non parla di Pulci e invece dedica diversi versi a Matteo Franco, eh. Quindi in questa prima fase tra Poliziano e Pulci non c'è un grande rapporto, non sembra esserci una particolare intimità, anche se poi troviamo alcuni, eh, appunto, alcune indicazioni del fatto che si conoscesse, eh. Col progredire del tempo, però, questi, eh, rapporti si intensificano e, appunto, arriviamo agli anni, diciamo, settanta e soprattutto dopo la congiura dei pazzi, è la fine dei settanta, qualcosa evidentemente cambia, eh. E che qualcosa cambi ce lo dice, eh, in modo abbastanza, abbastanza chiaro, sostanzialmente, Pulci, eh. Nel Murgante proprio, eh, nella sua opera maggiore, un grosso poema in ottave, in ventotto cantari, cioè in ventotto, diciamo, canti, eh. I primi dei quali, Pulci pubblica una prima edizione di questo testo che non ci è arrivata, cioè sono state perdute tutte le copie a stampa di questo libro, ne abbiamo notizie dal 1478, guarda caldo, eh. Quindi, o è uscita proprio nel 78, qualche studioso pensa anche forse nel 77, ma io sarei dell'idea che esce proprio in conseguenza della congiura dei pazzi, ma insomma. Questa prima redazione ha 23 cantari. Dopo Pulci, nell'83, quindi dopo cinque anni, pubblica una nuova versione, più ampia, con altri cinque cantari. E in questi cantari finali, che quindi si datano ad anni più recenti, eh, fine 70 e primi anni 80, Pulci menziona più volte Poliziano e dice in modo esplicito, lo ringrazia pubblicamente, eh, soprattutto alla fine del poema, quando prende congedo dall'opera e ringrazia tutti coloro che appunto lo hanno aiutato, che comunque gli sono vicini. C'è una lunga parte in cui si ringrazia Poliziano e si dice che gli ha fornito dei materiali, fondamentalmente. Leggo rapidamente un'ottava del, poco di quest'ultimo cantare ventottesimo. Pertanto io non aspetto il baldacchino, io non aspetto copifferi l'ombrello, non trago fuori nomi col vecino, cioè non mi aspetto di avere grandi riconoscimenti per quello che ho fatto. Dice altro, non aspetto tutti questi riconoscimenti perché questo agno vi porrà la mano, eh, nato per gloria di Montepulciano. Quindi mi accontento di piacere ai pochi, eh, che mi apprezzano e tra quali mette, dopo cita altri personaggi, mette anche Angelo da Montepulciano, cioè Poliziano. E nel venticinquesimo, vale che il cantare prima, quindi, ma sempre quindi in una fase avanzata del loro rapporto, quindi degli anni 80, fine 70, prima 80, dice chiaramente ringrazio il mio caro non Angiolino, senza il il qual molto lavoravo in vano, cioè senza il suo aiuto avrei lavorato in vano, avrei perso tempo, quindi non solo Angiolino, era il nome con cui era chiamato Poliziano perché era più giovane, piuttosto un cherubino, un serafino, onore e gloria di Montepulciano. Quindi non è solo un angiolino, ma è addirittura un cherubino e un serafino, cioè quegli angeli, diciamo, particolarmente importanti. E perché lo ringrazia? Dice che mi dette d'Arnaldo e dal cuino notizia e l'ume del mio Carlo Mano, cioè lui stava scrivendo in questa parte, descrivendo le gesta di Carlo Magno, il poema di Pulci e di materia carolingia, lui ringrazia Poliziano che gli ha messo a disposizione delle fonti a lui ignote. Alcuino è appunto il chierico di Carlo Magno sostanzialmente, il grande animatore della scuola palatina, a cui si attribuiva una vita a Caroli, una vita di Carlo Magno, che in realtà i moderni ora attribuiscono a un suo allievo, a Eginardo, ma anticamente si pensava che l'autore fosse Alcuino, quindi Pulci ha effettivamente attinto a questa vita e gliel'ha segnalata Poliziano. Quindi a questo punto non è più quello che faceva fare i sonetti al Franco contro di lui, ma è quello che dà a Pulci stesso i suoi, come dire, i riferimenti giusti per poter condurre in porto la sua opera. Ovviamente i due personaggi hanno una connotazione, come anticipavo un po' all'inizio, molto diversa. Uno è un grande umanista, che si esprime soprattutto in latino e in greco, e che appunto consegue molto presto una fama, diremmo oggi, internazionale, dove internazionale vuol dire ovviamente che in Italia scissa, come era allora, fuori di Firenze. Era apprezzato dagli intellettuali del nord, a rapporti appunto con intellettuali veneziani, per esempio, o in altri centri culturali. Ecco, però appunto i metodi di Poliziano ovviamente sono ispirati a quelli dell'umanesimo. Pulci opera su un livello diverso, non è ignorante, è di latino, anzi, attinge molto e molto, direi, con grande perizia anche, per esempio, a Virgilio e a Ovidio, ma non è assolutamente un umanista, insomma, la sua cultura è prevalentemente volgare. Ecco, i due infatti, proprio per questo, diciamo, la critica non li ha mai fatti parlare tra di loro, li ha sempre tenuti separati. Vi leggo rapidamente quello che dice Giovanni Getto in una monografia sul Morgante degli anni 40, poi istampata più tardi, negli anni 60. Poco, individua i due come due modelli distinti, come due diverse culture, due diversi tipi di cultura. Scrive Getto, così accanto alla filologia aulica e raffinata di Poliziano, tutta modellata su Propersio, Virgilio, Claudiano, Lucrezio e imbevuta delle nobili aure del Parnaso greco e latino, si veniva svolgendo, nello stesso secolo e nello stesso ambiente, vedete, della Firenze e dell'Aulenziana, una diversa ed opposta filologia, quella di Luigi Pulci, nutrita dalla saporita lingua e dell'anonimo popolo e sferzata dall'aria acre e profumata di mercato vecchio e del contado. Accanto a un'erudizione classica e solenne si collocava non già un'incultura, ma una diversa cultura folclorica e dimessa. In verità, gli studi successivi hanno fatto vedere che non è così dimessa nemmeno questa cultura di Pulci, ma obiettivamente ha un cotè un po' più appunto vernacolare e popolare, giocato, come vi dicevo, sui sali del comico, del rovesciamento parodistico, e quindi non è la filologia greca e latina di Poliziano. E tuttavia, nel corso degli anni, i due evidentemente si parlano, e si parlano in due modi, direi. Noi purtroppo abbiamo quasi solo la voce di Pulci che ci parla di questo rapporto. Poliziano ci dice ben poco, anche se, per chi è interessato, magari guardi il terzo capitolo che è impostato proprio su un lavoro di intertestualità, cioè si mettono a confronto passi interi del morgante e delle stanze e si vedono palesi riecheggiamenti tra un'opera e l'altra. Prelievi anche che in alcune sezioni diventano veramente molto fitti, molto densi, che rendono impossibile l'ipotesi, che già di per sé è inverosimile, che l'uno non conoscesse l'altro. Sarebbe veramente antieconomico presupposto. Però, al di là del rapporto intertestuale, abbiamo anche altri segnali, e in particolare direi ci sono due fatti, secondo me, importanti. Uno è quello che ha un po' mosso la mia ricerca, cioè uno spunto di un grande studioso di letteratura italiana, Stefano Carrai, che adesso insegna la normale di Pisa, che nel 92 scrisse un saggio sul morgante e sottolineò il fatto che, appunto, alla fine del ventitresimo cantare, quindi alla fine della prima parte, la parte che Pulci pubblica negli anni settanta. Quest'ultimo cantare è molto più breve degli altri, consta mi pare solo di cinquantaquattro ottave, mentre tutti gli altri arrivano di solito oltre le cento, qualche volta anche oltre le duecento o trecento ottave. Questo è brevissimo, sono cinquantaquattro ottave, ma soprattutto Pulci ha appena raccontato dell'incontro di due personaggi, diciamo, uno abbastanza importante, cioè Morgante, e l'altro è, scusate, Rinaldo, è Fuligatto, una specie di mostro, insomma, che lui converte, come spesso accade, in poche ottave riesce a convertirlo, e poi insieme i due cominciano una nuova avventura. Questa avventura, però, si interrompe praticamente subito, e si interrompe in maniera estremamente brusca, e vi leggo l'ottava, nella fine, l'ottave quasi conclusive del Cantare 23, e Pulci dice così, lasciagli come il bruco sulle frasche, cioè lasciamoli come un bruco su una foglia, eh? Rinaldo è Fuligatto, insino al giorno, che a questo modo smaltiranno le lasche, e il mosto è ciò che la c'è la sera mangiorno. Siamo fermati in una bazzia a mangiare, diciamo, lasciamoli a digerire e a dormire, eh? Cioè, sospendo questa storia, eh? Perché la sospedisce? Perché altra fantasia parche minasche, e sento nascere una nuova fantasia, una nuova ispirazione, eh? Sento di lungi chiamarmi col corno, che è il corno di Roncisvalle, il corno che Orlando suona a Roncisvalle per chiamare aiuto, no? Cade i paladini, eh, di Carlo Magno, cadono in un'imboscata, qui ovviamente la matrice è quella della chanson de Roland, e tutte le sue varie riconfigurazioni, anche in italiano, che nel Medioevo, del tardo Medioevo, vengono fatte, quindi sento chiamarmi col corno, e suona quel che chiama quanto pote, che qui comincia alle dolenti note, con evidente tessere adantesca. E subito dopo cambia totalmente il registro, cioè un poema che era giocato quasi tutto sullo scherzo, o comunque sulle avventure picaresche di questi paladini, diventa una tragedia, come Pulci stesso ci dice nel cantare successivo. Comincia alle dolenti note, eh? E si è imboccata la strada che porta a Roncisvalle, che per carità era prevista, perché parliamo comunque dell'epopea carolingia, il cui esito è quello, eh? Coi paladini sterminati dai salacenni in un'imboscata, eh? Ma, appunto, ci si arriva in modo traumatico, con una brusca cesura, eh? Vi leggo rapidamente l'ottava che segue. O Ricciardetto, o vettorio lasciato, non sai tu l'asso del futuro ancora? O me, chioveggio il mondo avviluppato, un serpente esce dalla terra fora, con sette bocche e fuoco raggittato, e molta gente, con esse divora, farà tremare le mura di Parigi, e molta al banco, e verso il malacice. Quindi, nell'ottava successiva prosegue questa descrizione apocalittica, perché veramente si prelevano i simboli, anche avete riconosciuto, appunto, il serpente con le sette bocche, insomma, tutti una simbologia che deriva un po' dai segni del giudizio universale, un po' dal libro dell'Apocalisse, appunto. Quindi, uno scenare completamente diverso, una retorica totalmente diversa, che richiede evidentemente una giustificazione. È un passaggio brusco, e Carrai si chiedeva, diceva, ma com'è possibile che ci sia una fartura così brusca, eh? Un cantare così troncato a metà, che presenta una scissione così brusca. E Carrai stesso proponeva proprio che questo fosse il risultato della congiure dei pazzi, eh? Mentre Pulci compone il suo poema, accade questo fatto traumatico che cambia per sempre la storia della civiltà larvenziana, e allora si può parlare, diciamo, il poema di Pulci si riorienta verso la tragedia, eh? Verso un qualcosa di più attuale, eh? E poi ci sono molti indizi, ovviamente, tra cui l'immagine del lauro folgorato che dà titolo al volume, in un certo punto Pulci ci rappresenta una folgore che è un momento importante della storia, che incelerisce un lauro, che evidentemente lauro, dire lauro nella Firenze laurenziana è un segnale chiarissimo, eh? È la civiltà larvenziana che è posta sotto minaccia, eh? E qui, tra l'altro il lauro, come forse non tutti sanno, si credeva nel Medioevo che fosse immune dal fulmine, eh? Già in Petrarca, no? Che gioca molto su questo fatto, il lauro non attirava il fulmine, era preservato da essere colpito dal fulmine, invece, proprio a far capire che questo è un fatto contro natura, quasi, eh? La folgorazione del lauro. E quindi, come contro natura è stata, eh? La congiura dei pazzi che ha scardinato quella, quella civiltà. Quindi, vedete, il poema di Pulci è scisso a metà, potremmo dire, da questo evento traumatico. Di quello del poliziano un po' abbiamo detto, cioè lì è il protagonista addirittura che viene meno, fondamentalmente, quindi c'era un problema di riorientare quella storia dopo la morte del protagonista. è appunto un passo importante, eh? Per, eh, tracciare un po' meglio i rapporti tra Poliziano e Pulci, alla luce di questo evento, eh, sono le ottave che concludono il ventottesimo cantare del Morgante. Per il quale siamo fortunati, perché Pulci all'inizio ringrazia la sua committente, eh, come dire, rimpiange di non aver potuto consegnarle l'opera in vita, eh? La committente era la madre di Lorenzo, Lucrezia Tornaboni, che fra l'altro era una notevole autrice di testi sacri, eh, laude e testi in ottave, eh, testi di soggetto sacro, e aveva commissionato a Pulci, appunto, questa storia dei paladini di Carlo Magno. E Pulci si rammarica, eh, di non essere riuscito a consegnarle a tempo, diciamo, eh, questa versione definitiva dell'opera, perché in questa versione, a differenza della precedente, c'è la vita di Carlo Magno, eh? Le aveva chiesto una storia su Carlo Magno, l'ultimo cantare del Morgante, contiene anche la biografia di Carlo Magno, grazie anche alle fonti segnalate da Poliziano. E quindi noi sappiamo che quest'ultimo cantare, siccome menziona Lucrezia come morta, sappiamo che lei muore il 25 marzo dell'82, quindi sappiamo che questo cantare risale a un periodo compreso tra il 25 marzo dell'82 e il 7 di febbraio dell'83, quando il libro è stampato, eh? Quindi meno di un anno, quindi possiamo datare molto bene questo cantare. E vediamo che in questa, a questa altezza cronologica i rapporti con Poliziano sono cambiati, tanto che le ultime ottave del poema descrivono una situazione, eh, come vi dicevo, come quella che prima ho un po' prefigurato, cioè Pulci prende congetto dal poema e saluta e ringrazia vari personaggi che a lui sono vicini, il poeta Bernardo Bellincioni, Antonio Di Guido, vari altri, e soprattutto celebra Poliziano, e dice qualcosa come questo, eh? io seguirò la sua famosa lira, eh, la sua di Poliziano, la lira ovviamente lo strumento, eh, che accompagnava il canto, eh, già appunto nei poeti latini, tanto dolce, soave, armonizzante, che come calamita a sé mi tira, tanto che insieme troverò in pallante, cioè io sono, come dirà, vinto dal canto di Poliziano, sono un suo seguace fondamentalmente, quindi riconosce la maggiore grandezza di Poliziano, e insieme troveremo pallante di cui dirò fra Brecht, perché essendo ambo messi in una pira, segni farà del nostro amor costante, cioè saremo addirittura messi nello stesso fuoco, eh, al momento della morte, come appunto nell'età antica, eh, le sceneri dei due saranno bruciate insieme, insomma i corpi dei due saranno bruciati insieme, come segno di una congiunzione proprio forte tra le due, eh. Noi ce ne andremo, cioè io e Poliziano, eh, io Pulce e Poliziano, ce ne andremo per le famose live, Deurote e Pegiochi là di Cinto, cioè ce ne andremo per i luoghi sacri alla poesia, eh, la poesia come collante che tiene insieme questi due poeti, dove le muse ausonie e argive, cioè italiche e greche, eh, conferma della diversa, anche del diverso orientamento culturale dei due, eh, li portano chi Narciso e chi Jacinto, io sentirò cose alte e magne e dive, che non sentì mai Pindola e Arachinto, io condurrò pallante a Delfi e Delo, poi ce ne andrà come Quirino in cielo. Quindi insieme porteranno questo pallante nei luoghi sacri alla poesia e poi questo pallante se ne andrà in cielo come Quirino, Quirino è Romolo, eh, che come è noto, eh, primo re di Roma, venne poi assunto al cielo, no? Viene appunto deificato, eh, quindi venne assunto in cielo, eh, da mortale che era, divenne una divinità. Ecco, su questo pallante la critica si è spesa molto nel corso degli anni, è chiaro che c'è un riferimento, eh, a un personaggio, è la parte più, tra virgolette, cortigiana dell'opera ed è altrettanto chiaro, tutti l'hanno riconosciuto, che qui si parli di un personaggio della famiglia de' Medici. Perché? Perché, eh, le palle d'oro, eh, sono classico emblema mediceo, ricordato da tutti i poeti, qualunque palazzo fiorentino andiale, nome anche non solo fiorentino, diciamo, di tutta la Toscana, direi, l'emblema delle palle de' Medici è esposto, eh, ovunque, quindi pallante è un classico nome che richiama un emblema araldico. Pallante è anche, come è altrettanto noto, eh, un personaggio dell'Eneide virgiliana, il figlio di Evandro, eh, il re degli Arcadi, che nell'Eneide, come sapete, cade vittima di turno, che è l'antagonista, no? Di Enea. Ed è un personaggio importante, perché questo giovane pallante muore e cade, appunto, in giovane età, sconfitto dall'antagonista, e se vi ricordate proprio l'ultima scena dell'Eneide, turno ha, eh, scusate, Enea ha colpito turno che è a terra e chiede pietà, fondamentalmente, Enea è quasi disposto a concedere, a risparmiargli la vita, poi però vede a turno indosso le armi di pallante e lo trafigge dicendo che non sono indice, ma è pallante, eh, a colpirti. Sto parafrasando un po' a memoria, insomma, ma questa è la città. Quindi è un personaggio importante, pallante. E la critica, fino ad ora, ha pensato, per identificare questo pallante, in questo passo, a Lorenzo stesso, Lorenzo de' Medici, o suo figlio Piero, eh, che avrebbe poi, per un paio d'anni, esercitato la stessa funzione di Lorenzo dopo la sua morte, eh, Lorenzo muore nel 92, Piero nel 94, fino al 94 esercita questo ruolo, ma viene cacciato dopo, appunto, eh, l'ingresso dei francesi in Italia, come sapete, all'inizio delle guerre d'Italia, e i medici vengono cacciati a Firenze. Quindi, Lorenzo o Piero. Io però ho dei seri dubbi a condividere queste ipotesi per due motivi. Pallante, appunto, è il personaggio che vi ho detto, eh, questa pagina pulciana è intrisa di memoria virgiliane, quindi Pulci sa benissimo quello che dice, si rivolge a un personaggio come poliziano che conosce benissimo, eh, i testi classici, quindi l'allusione deve essere precisa, no? E secondo me è di molto, di, veramente di cattivo augurio sarebbe augurare al giovane Piero il destino di Pallante, con ogni evidenza, no? Eh, il giovane Lampollo Medicio paragonato a un giovane che cade ucciso in una guerra. Ecco, un personaggio che aveva avuto quella sorta, i medici ce l'avevano, ed era Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo, eh, e infatti qui si dice che poi sarà assunto come Romolo in cielo, eh, quindi i due portano eh, Pallante nei luoghi sacri della poesia, cosa vuol dire? Vuol dire che tutti e due dedicano a Pallante le loro opere. Cosa è Poliziano fa? Perché il protagonista è Julio, appunto, eh, cioè Giuliano, eh, proprio la storia di Giuliano che vince la giostra, eh, e Pulci altrettanto, eh, altrettanto perché questa parte finale, con forti, diciamo, riflessi cortigiani, potremmo dire, ci parla proprio di Pallante Giuliano, eh, il cui ricordo fondamentalmente sarà eternato dalla poesia. E questo tema della poesia eternatrice è uno dei collanti tra Pucci e Poliziano, molto forti, che infatti si misura in tantissimi passi delle due opere. Quindi, ecco, questo chiamare in in aiuto Poliziano, sia dal punto di vista fattivo, gli fornisce dei materiali, sia vederlo come compagno per la celebrazione di Pallante, secondo me, istituisce un legame molto forte fra le due opere e fa anche pensare, anche perché esistono altri testi, eh, uno è di attribuzione incerta, forse anche quello di Pulci, ma non è, ma l'attribuzione, diciamo, non è sicura. Esistono altri testi che celebrano la morte di Giuliano. È un'elegia diretta a Lucrezia Tornabuoni, appunto, in ricordo di Giuliano, eh, che ha forti relazioni con le due opere, sia di Pulci che di Poliziano. Quindi tutto questo mi lascia pensare a una strategia, eh, gestita dall'alto, da Medici fondamentalmente, di celebrazione postuma di Giuliano, eh. Giuliano che è, appunto, la vittima, è la vittima della congiura ed è anche, in un certo senso, dal punto di vista di politica, di politica culturale, l'emblema che Medici possono sventolare è quello che a Medici è costato, eh, impegnarsi per la città. È la vittima di, appunto, eh, di chi non sta con loro fondamentalmente, degli avversari, dei nemici, insomma, non gli sono mai mancati anche dopo nel 94, quando saranno cacciati. Quindi, ecco, in questa celebrazione cortigiana che poi Pulci, appunto, descrive anche lì, in termini dirigigiani, come una specie di età dell'oro, eh, in modo molto esplicito, eh, anche lì, appunto, con forte interrelazione con Poliziano, c'è questa componente forte, eh, di interrelazione con, con l'umanista di Montepulciano, proprio nella celebrazione di Giuliano, eh. E quindi, eh, come dire, questo secondo me, e qui, eh, non vorrei parlare molto a lungo ancora, le cose, diciamo, un po' che ho detto stanno quasi tutte nel primo capitolo, che è il più lungo e quello che dà un po' l'orientamento all'opera. I capitoli successivi, in realtà, si confrontano da questa nuova prospettiva con una serie di interpretazioni dei testi che, prescindendo dal rapporto Pulci-Poliziano e prescindendo anche, tutto sommato, dalla collocazione, eh, storico-temporale, eh, che ho descritto, quindi il discorso della congiura dei pazzi, presenta l'interpretazione del testo che secondo me sono un po' artificiosi, eh. Ne cito una sola che, tra l'altro, è usata in modo diverso, ma per tutti e due l'autore, stranamente, cioè un'interpretazione di tipo allegorico, mh. Il Morgante, che è una lettura che io consiglio sempre a tutti perché è estremamente divertente, è estremamente, appunto, una lettura piacevole, tra l'altro una lingua molto, eh, vivace, eh, anche dal punto di vista linguistico e anche dal punto di vista delle avventure, per chi è appassionato del genere cavalleresco, obiettivamente è un bel testo, ma è un testo anche che fa divertire proprio, cioè, eh, i personaggi come Margut e lo stesso Morgante, ispirati al principio della dismisura, sono personaggi, sono giganti, uno è un gigante, uno è un semigigante, che hanno un appetito straordinario, fanno gesta, diciamo, assolutamente fuori dalla norma e quindi, eh, anche una lettura divertente e la chiave quindi è per lo più comica, eh, anche se non costantemente comica. Ecco, nonostante questo, cioè nonostante questa indubitabile, eh, prospettiva del testo, anche per il Morgante è stata proposta una lettura, diciamo, allegorica, eh. Allegorica in che senso? Diciamo una lettura che vede al di là della lettera, eh, di queste avventure un po' picaresche, come vi dicevo, dei paladini, che sono un po' desacralizzati, non sono i paladini, diciamo, dell'epica carolingia francese, eh. C'è Orlando e Rinaldo che spesso hanno fame, Rinaldo in particolare si comporta una montirata di strada, a un certo punto va in Pagania e assalta e vive, diciamo, da brigante, quindi ecco, vedete, è una desacralizzazione anche dell'epica per certi versi, che anche per questo fa ridere per chi ha presente, diciamo, i modelli seri, eh. Ma dietro questo ci sarebbe, secondo alcuni studiosi, una componente moralistica o addirittura religiosa, quindi un messaggio moralistico religioso, eh. E sarebbe una figura, sostanzialmente, dell'uomo, eh, che si confronta con l'ensitio del peccato e con i rovesci della fortuna, quindi ci sarebbe una specie di percorso ascensionale, di purificazione, eh. Anche se, diciamo, la trama è molto dispersiva, in realtà per me è un po' difficile vedere questo. Ecco, io credo che questo tipo di lettura conviva male, eh, con una, eh, come dire, contestualizzazione di tipo storico precisa come quella che indicavo prima, almeno gli ultimi, gli ultimi cantari. Mi sembra un po' difficile inserirli all'interno di un discorso, eh, moralistico, religioso, coerente. Poi che singoli passi abbiano un significato religioso o moralistico sono pienamente d'accordo. Però questa struttura coerente e preordinata dell'opera a me sembra un po' inconciliabile con invece la necessità di vedere un riorientamento progressivo dell'opera dovuto a quello che accade intorno a Pulci. Analogamente per le stanze dei poliziani si è pensato a una sorta di metafora, eh, un itinerario di crescita morale dell'uomo, eh, che passerebbe da uno stato di vita sensuale a un livello superiore di vita civile o attiva, eh, incentrata sull'attività politica e sull'esercizio delle virtute logali, poi a un terzo livello, una dimensione contemplativa che consta, diciamo, dell'esercizio delle virtute logali. La storia lì qual è? È appunto questo Giulio, è che all'inizio si dedica soprattutto tutta la caccia e divertimenti tipici dei nobili rampolli dell'epoca. Durante una caccia trova una cerva, la cerva lo conduce in una radura, la segue a tratto ovviamente da questa cerva, che si trasforma in una bellissima ninfa, eh, gli dice chi è, è un personaggio storico, è Simonetta Vespucci Cattaneo, eh, una nobile di famiglia genovese ma sposata a un fiorentino, quindi una bellissima donna celebrata anche da vari poeti dell'epoca, è proprio innamorato di questa donna, eh, Giuliano si decide, anche in virtù di un sogno che gli viene mandato da Venere, eh, a cimentarsi nella giostra, eh, eh, e quindi una serie di sogni premonitori lo invitano a partecipare alla giostra e poi il poemetto di fatto si interrompe perché non non è raccontata la giostra, è proprio perché, come vi dicevo, il poemetto è incompiuto, però ecco, quest'antefatto è presente. Ecco, è interessante che nel 2016 Francesco Bausi ha fatto un'edizione critica delle stanze, essendo un sommo filologo, eh, Bausi è uno dei migliori filologi in attività, ha provato a ricostruire, oltre che a darci un testo credibile e scientificamente fondato, ha provato a ricostruire le tappe di questa evoluzione di un testo che rimane poi incompiuto, no? E, eh, come dire, per una via poligenetica rispetto alla mia riflessione sul Morgante è arrivato più o meno a dire le stesse cose che io ho detto del Morgante, cioè, la congiura dei pazzi cambia la storia di questo poemetto, eh. E, per la prima volta, Bausi legge in alcune ottave del secondo libro di, delle stanze, nella fase in cui Giuliano, dormiente, sogna, eh, è un sogno che gli è mandato da Pasitea inviata da Venere, eh, che vuole che Giuliano partecipi alla giostra, perché ovviamente Venere è molto indignata con Giulio perché non si, non si innamora, eh, come spesso accade le poemi anche classici. E allora gli manda un sogno per farlo innamorare, quindi farlo partecipare alla giostra, creando il suo altro binomio gloria e amore, eh, che è tipico di molti poemetti. Durante il sogno, appunto, a Giuliano appaiono delle prefigurazioni non solo della futura gloria che conseguirà, ma anche del destino luttuoso, eh, che è appunto a cui andrà incontro. E forse ha senso che io concluda leggendo un po' queste ottave di, eh, di Poliziano, eh, dove appunto Venere esorte appunto Giulio a rivolgersi alla gloria, alza, alza gli occhi, alza Giulio a quella fiamma, che come un sol col suo splendor tadombra, qui di eccolei che l'altamente infiamma e che depetti ogni viltà di sgombra. Quindi un'esortazionale gloria, eh, a Giulio. E così va avanti per un po' di tempo e poi la prima prefigurazione. Poi Giulio di sue spoglie armava tutto e tutto fiammeggiare lo faceva d'aura, lo faceva riducere d'aura. Quando era il fin del guerreggiar condutto, al capo gli intrecciavo lì va e l'aura, eh, quindi lo adorna dei, appunto, simboli tipici della vittoria anche, appunto, in campo militare, ivi tornare parea sua, sua, eh, gioia in lutto. Ecco, la sua gioia sembra convertirsi in lutto all'improvviso, eh. Vedea si tolto il suo dolce tesauro, quindi vedeva che gli veniva sottratto il suo tesoro e qui a cosa siamo? Si allude la morte di Simonetta che in effetti morì veramente per uno strano caso del destino il 26 aprile anche lei, gli due anni prima, del 76, eh. Quindi, la giostra del 75, dopo un anno, la figura femminile che innesca l'azione di Giuliano muore, e muore proprio il personaggio storico, fisicamente, la vera Simonetta muore, e il poemetto rappresenta questo fatto. Quindi il primo segnale di lutto è la morte di Simonetta. Vedea sua ninfa in triste nube avvolta, eh, degli occhi crudelmente esserli tolta. Quindi primo segnale non positivo, eh. In questo sogno Giuliano vede la propria gloria futura, ma vede anche che la ninfa di cui si è innamorato è avvolta a una trista nube, quindi diventa una nube che non fa presagire nulla di buono. Ecco, questo riferimento era stato colto dagli editori, dai precedenti interpreti, e Bausi lo accoglie. Bausi però poi vede un ulteriore riferimento nell'ottave successiva. E questo riferimento è proprio alla congiura dei pazzi, cioè alla morte di Giuliano stesso. L'air tutta parea divenire bruna e tremare tutto dell'abisso il fondo. Vedete l'analogia anche con il passo pulciano che abbiamo letto prima, questi segni un po' come dire apocalittici, eh. Parea sanguigno il cielo farsi e la luna e cadere giù le stelle nel profondo. Le stelle che precipitano, il cielo farsi l'osso sangue, eh. Tutti questi segni, insomma, non lasciano presagire nulla di buono. Poi vedea lieta in forma di fortuna, sorgere sua ninfa e rabbellirsi il mondo e prenderle di sua vita a governo e con lui secco fare per fama eterno. Vedete, farlo eterno per fama. E per fama eterna si diventa però purtroppo dopo la morte. Quindi questi presagio foschi a cui poi consegue una fama oltre a terra. Sotto Cotaliambagia, Giovinetto fu mostrato, cioè fu mostrato, dei suoi fati e legge il corso. Quindi gli fu fatto vedere com'è leggera la vita umana, cioè come appunto cambia da un momento all'altro il corso della vita umana. Troppo felice se nel suo diletto non mette a morte acerba il crudel morso. Una vita che sarebbe fin troppo felice se la morte non vi mettesse il suo crudele morso all'improvviso. E quindi è evidente che qui si parla della morte di Giovinetto. Ma che può te a fortuna essere disdetto che a nostre cose allenta e stringe il morso? Cos'è che non può fare la fortuna che domina tutto il nostro vivere fondamentalmente? Ne va per calti la Lusinghio morda che a suo modo ne guida e par pur sorda. Quindi ecco una fortuna onnipotente che domina, come dire, la vita umana e che quindi sottopone poi al suo brusco rivolgimento alle vicende umane. Sia in questo caso di Simonetta sia dello stesso Giulio che appunto è destinato alla morte e percepisce questo suo destino in sogno. Un destino che poi però tragicamente si avvererà appunto nella realtà storica. Ecco, il libro ha un po' questa caratteristica, di calare un po' nella storia questi due poemi e di provare a farli dialogare un po' fra di loro, ripeto, senza dire che Pulci è uguale a Poliziano, perché hanno un'estrazione culturale, sociale, una formazione completamente diversa, ma nonostante questo a un certo punto della loro vita trovano un punto di contatto, si trovano diciamo dalla stessa parte, che è quella della celebrazione posto, ma probabilmente di Giuliano De Medici, vittima della congiura dei pazzi. Beh, direi interessante, credo che la cosa migliore sia quella di correre a comprare il libro, perché qui ovviamente abbiamo potuto illustrarlo per quello che si può fare in una diretta di YouTube, quindi io ricordo il titolo, che è Il Lauro Folgorato, la congiura dei pazzi, le stanze per la giostra e il morgante, appena pubblicato dalle edizioni di Storia e letteratura, di Alessio De Caria, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, che io ringrazio tantissimo. Io ti ringrazio, grazie mille dell'opportunità. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa appena visionata troveranno anche tutte le altre videopresentazioni che abbiamo realizzato fino ad oggi. Grazie ancora e a presto. Grazie a tutti.